Regalati un momento di puro benessere. Il centro offre un programma completo di servizi che associano le tradizionali pratiche estetiche alle più tecnologiche applicazioni, al fine di proporre trattamenti sempre più all'avanguardia, in grado di rigenerare anima e corpo. La cortesia e la professionalità del personale, altamente qualificato e costantemente aggiornato, sono alla base di ogni nostra prerogativa per garantire ad ogni cliente risultati concreti, combinati a momenti di assoluto benessere. Venite a scoprire le esclusive meraviglie che il centro arte estetica ha riservato per voi, adatte ad ogni esigenza, per fare un regalo a voi stessi oppure a chi volete bene.